Il viaggio che riguarda i diritti e i rovesci del mondo perché il viaggio responsabile parte da casa e arriva a casa Itaca in dialetto bolognese significa sei a casa dove la casa è una qualsiasi casa, una qualsiasi Itaca da raggiungere dove più che la meta conta il percorso e il modo in cui ci si mette in viaggio Itaca è un evento di straordinario interesse, un evento che cresce di anno in anno e che è capace di combinare contenuti, valori ma anche convivialità, incontro, amicizia e che ha anche il pregio di distribuirsi, di presentarsi in tutta la città in vari luoghi importanti della città, della vita culturale, della vita sociale della città Ciao! Ciao! Itaca di Ulisse L'isola irraggiungibile, l'utopia, la meta che... L'isola irraggiungibile, l'utopia, 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 l'utopia...